Premio con il sole sul viso, Francesca Ceci, cara amica di Alma Manera e che in qualche modo ha anche contribuita al successo di questa manifestazione? Adesso non voglio assolutamente esagerare, per carità spero soltanto di contribuire essendo presente, credo sia una prima edizione di una manifestazione molto importante che Alma ha curato veramente in ogni dettaglio, soprattutto con tanto cuore, quindi quello che penso su questa serata è proprio che ci sia tanto tanto cuore, sono qui per questo, quindi il mio contributo è quello di essere presente, di poter fare il più possibile sempre con il sole sul viso e sul cuore, quindi di portare comunque serenità, umanità e sensibilità. Spero siano le cose importanti per questa serata e per tante altre cose che verranno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.